buonasera a tutti sono Gerardo Bonomo con una novità questa sviluppatrice daylight che si chiama lab box che è disponibile sia col modulo 135 in questo momento è già montato per sviluppare in completo daylight senza changing bag e o camera oscura per caricare la pellicola le pellicole 24 36 che con il modulo 120 per sviluppare nuovamente senza changing bag e camera oscura le pellicole in formato 120 6 4 e mezzo 6 6 6 7 6 9 6 12 troverete tutte le prove su dagli prossimi giorni eufemisticamente sul mio sito www.gerardomonomo.it buonasera e buon allunaggio per domani a tutti grazie